presentati ciao io sono Nicole e ho otto anni faccio la terza elementare cosa vuoi fare da grande? da grande voglio fare l'avvocato se ne avessi la possibilità cosa ti piacerebbe fare? vorrei ballare dimostro alexia che dunigться la festa la gente ballando il taglia ti sono vete a venire taglia vai quindi sul cuo taglia domani so piensa taglia oye "...para gente che leggo star taglia Ora dico, attacabro, attacayomio tambien La gente ballando, tu bla 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 Que se attacayomio, que se avanza ya Le tete muchacho, llegó el taccata Que a todos les gustas, ay mam Te veo atacado, bien sofocado Y creyendo con città destesperado Y viente una cosa nueva, halahao Taccatabro Fai un appello al pubblico per farti votare Se vi piace come ho ballato, votatemi Ciao